i maccheroni ragazzi erano buonissimi eh veramente facciamo un applauso al cuoco o alla cuoca che lo senta forte che così arriva fino in cucina maccheroni buonissimi ragazzi bene complimenti adattissimi per alimentare le farfalle ragazzi messaggio numero 26 ragazzi chi è questa donna fortunata numero 26 26 ragazzi ah eccola qua bene e vai 26 ecco qui chiami la diretta piano eh piano ciao come ti chiami Susanna oh Susanna non piangerei perché Susanna da Rimini da Rimini ma c'è un raccetto leggermente vogliamo sapere il punto di origine da Grecia dalla Grecia complimenti la bellissima Grecia sei venuta apposta per la mia serata vero? si a posta è venuta apposta dalla Grecia per la mia serata che ha preso un aereo ed è venuta dai comuni ascolta eh tu cosa fai della vita? io faccio spettacoli in strada spettacoli in strada fantastico ma guarda bellissimo anche io l'ho fatto a Vigevano un mezzo fa l'ho fatto per strada non mi piace tanto il santo non mi stavola non ti fai balli? si ma voi ci fai il balle giudo? no adesso no non si senti vabbè magari più tardi cameriere porti del vino questa signora più tardi più tardi si senti a me ascolta come vuoi l'uomo ideale tu? ti chiedi come lo vuoi? come lo vuoi? come lo vuoi? no 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 le cerco vuole una donna? no aspetta nel posto di Guadagra bisogna che la metti di qua un uomo che ruba allora devi andare a ruba io lo so ascolta guarda io ti do questo messaggio e poi speriamo che ci sia un uomo perfetto 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 ora vai perfetto un uomo 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 tu tu mi stai guardando tu la greca è interessante e mi scuola tra i feriti in grecia a parlare greco tu puti e ti tiro a me noi a tipo e andavate negli apropoli prassimo portugalo beneditolo in gloria cocchino cocchino rosso rosso lo dico perché ci sono andati in giro non ho scritto niente e che devo dire io sono il postino l'ambasciatore non porta bene ho capito che questo è un uomo però non so va bene vediamo degli altri magari vogliamo svegliarsi un po' dai quando vedi bisogna lecce ragazzi vogliamo muovere conti una cosa di un pelino criminali perché se no parli voglio venire la mia è una cosa di un pelino criminali e facciamo un'altra Non piangere, non muovere, non cry, forza! Ehi ragazzi, siete fantastici, fantastici, andate ancora, vai, bene, facciamo un'altra, facciamo questa, dai! Vieni qui, yes! Vai ragazzi, siete troppo forti, dai, in pista, in pista ancora, forza! Vai, vai, vai! Ehi! Ehi, 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 ehi! Sei! Ehi, 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 ehi! Forza, gente! Ehi! È partito! È partito! È partito, questo! Ehi! Seria del Castello, 2023, febbraio. 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 Farsi trasportare all'errofiori. Seria del Castello, 2023, febbraio. Seria del Castello, 2023, febbraio. Seria del Castello, 2022, febbraio. Seria del Castello, 2023, febbraio. Seria del Castello, 2023, febbraio. Anche balla lì, ragazzi, vuole far male di sole Prima balla l'uomo in seduzione Farsi trasportare all'emozione E' rincontro di mani questo amore Con le mani, se vuoi, puoi dire di sì Sapri con i visi E' p Deponso di panosice, alibrofitto Deponso di panosico, alibrofitto Si sompa per straga, corre ben, come ved Voi, vui, 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 vui Voi, vui, 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 vui E' un po' di farfalle ragazzi, un po' di emozione, sconsolamento ragazzi, bene, complimenti, complimenti, perfetto, buon appetito, buon appetito ragazzi, noi siamo una fabbrica di farfalle, veramente, fabbricatori di farfalle, come si vuole dire, vai raga, buon appetito, vai, single in tour forever, yes!